La crisi, gli imprenditori falliscono, insomma, in questi tempi un imprenditore prenderebbe i soldi e andrebbe via, eccetera, questa scuola è essa. Ma poi non si diverte, ma dobbiamo smettere di pensare che i soldi siano fonte di felicità, ma sai quanti ricchi tristissimi sono in giro per il mondo? Loro credono di essere felici, no beh, giustamente. Allora, sulle rendite finanziarie, adesso addirittura il 20%, prima era il 12,5%, se come ti muovi i lavori paghi la metà, paghi il 50%, però è anche un po' giusto, ti diverti da morire. Cioè è giusto che sia meno tassata l'infelicità di questi usurai che passano già la giornata tristemente a pensare a quanto gli rendono i denari e che in questo momento sono tristissimi perché la borsa va giù. Pensa se un marziano ci guarda, no? Non conosce noi umani e dice ma che mondo strano, i ricchi sono infelici. Che strano, sono infelici perché hanno tanti soldi e in questo momento cazzo la borsa, l'oro, non sa cosa fare. Uno povero è povero, è sempre uguale. Un po' ultimamente. Però, sì. Questa cosa della quindicesima, ti chiedevano il break even di questo posto. Io spero di raggiungerlo, superarlo, eccetera, per fare le stesse cose anche qui, ma credo che succederà. Come ha funzionato? Ma hai visto che figata che è, no? Vuoi mica che non vada in break even di una roba del genere? Se non va in break even di una roba del genere non c'è giustizia nel mondo, no? Una domanda. Parlavate di slow food, però tu hai detto che il chilometro zero non è giusto sempre. No, non è giusto quasi mai. Lo è, lo è, normalmente per i prodotti di tutti i giorni è inutile andare, io sono un moderato, quindi le esagerazioni non le voglio. Però, ragazzi, se fermiamo la libera circolazione delle merci, fermiamo la libera circolazione delle idee nel mondo. Insieme alle merci circolano le idee. E quindi questa roba dei chilometri zero, esagerata, ci rimette tutti di nuovo all'epoca dei comuni, no? All'epoca dei comuni. Quindi non deve esistere questa roba. Le grandi cose belle del mondo le vorrei portare qui o io portarmi, perché noi vogliamo andare nel mondo a vendere Barolo, Barbaresco, Giuseppe. Poi non dobbiamo comprare le borse ai cinesi, no? Perché poveri Cristi devono vendere, poi ci vendono altro che le borse. Quindi, libera circolazione delle merci e con moderazione non andare, è inutile che vada a mangiare le mele canadesi. Cioè uno che qui mangia mele canadesi è un deficiente. Bisogna cercare di non mangiare le arance d'estate, perché le arance nel nord del mondo vengono d'inverno, ma un po' di normale moderazione e semplificazione ci aiuta, ben pensando che se qualche volta voglio mangiare una fetta di un grande amon iberico, io non mi devo sentire un delinquente. Me la mangio. Un'ultima battuta politica, diceva di andare così d'accordo stranamente, figlio di Partigiano, con Polverini e suoi. Però oggi nell'intervista di Gramellini c'era anche un accenno su Renzi. Ci dica un po'? Si, Renzi mi ha telefonato oggi che viene al 14, sarà carino vederlo. A me piace moltissimo Renzi. Mi piace da morire, perché ha coraggio. Sì, io ci punterai molto su Renzi. Se potrò gli darò anche il voto, alle primarie. Spero di farlo.